Abbattere gli stereotipi di genere nel mondo edile e dimostrare che il cantiere non è soltanto un luogo per gli uomini. Sono gli obiettivi dell'iniziativa Donne in Cantiere di Top Taio, general contractor specializzato in operazioni di riqualificazione edilizia, che ha selezionato due operaie per una formazione retribuita cominciata lo scorso gennaio e che durerà in totale tre mesi. Una volta pronte a essere inserite nel team, Renata e Cristina saranno assunte a tempo indeterminato. Il cantiere non è solo per uomini, possono starci benissimo anche le donne. Basta essere volenterose e aver voglia di imparare cose nuove in un ambiente prettamente maschile. L'ambiente è prevalentemente maschile, però mi trovo molto bene anche con i miei colleghi. All'inizio ero un po' timorosa, ma va tutto molto bene. Loro sono delle persone stupende, mi aiutano tanto, anche perché non so fare niente, non arrivo da questo mondo. Spero di imparare sempre di più e che questo possa diventare la mia futura professione. Il mio compito è quello di gestire l'organizzazione del cantiere, quindi tutte le mattine in cantiere si guarda le lavorazioni che sono andata a fare, che vengano rispettate i tempi da cronoprogramma, la consegna eccetera. Diciamo che, come mi trovo, non nascondo che comunque sia un ambiente difficile, perché è un po' ossico per le donne, anche per i ragazzi in cantiere vedere arrivare una donna a gestire quelle che sono le lavorazioni, sono sempre un po' prevenuti. Quindi sta un po' alla figura femminile cercare di trovare il proprio spazio all'interno del cantiere. Però io sono convinta che comunque le donne hanno quella marcia in più rispetto agli uomini che potrebbe veramente dare quello che manca in questi ambienti che comunque sono prettamente visti come un cliché, quindi dove ci sono solo uomini. Il nostro obiettivo, e l'obiettivo di Top Taglio, è quello di avere nel 2025 30 figure femminili all'interno dei cantieri. Con la nostra azienda stiamo cercando di rendere la normalità anche che una donna possa fare l'operatore di cantiere. L'iniziativa è sempre aperta per fare nuove esperienze, buttarsi in un nuovo mondo, basta andare sul nostro sito o mandare una mail con il curriculum.